Palermo è il suo film, è ambientato a Palermo ma in realtà non è realmente Palermo, perché? Sicuramente era perché volevo un'evocazione di Palermo e l'ho trovata in alcuni spazi in Puglia e quindi non mi interessava vedere proprio la città palermicana ma mi interessava evocarla anche perché la definizione del mio film è una fiabba nera, quindi come fiabba io ho disegnato un ricordo un po' confuso nella mia tela